Legge di reincarnazione Se è vera la legge di reincarnazione, io nel Medioevo, come ho vissuto? Commento Ovunque tu ti sia incarnato nel cosiddetto Medioevo, hai vissuto consumando le limitazioni che avevi in quel tempo del piano fisico. Come stai consumando le limitazioni che hai adesso, che sono matematicamente meno pesanti di quelle che avevi nel Medioevo.